la cosa che mi ha totalmente ipnotizzato di lui è la grande esperienza emozionale di volare indossando questo assurdo visore digitale esatto sono rimasto incredibilmente emozionato da questo abbinamento e pensando a tutti coloro che adorano volare con i propri droni e posseggono anche il piccolo mini 2 beh avere la possibilità di usarli volando ovviamente con lui ragazzi non vi rendete conto di che emozione potrebbe essere tanta è la qualità che trasmettono ma questa non sembra che sia un'utopia anzi probabilmente sarà presto realtà come al solito un like così mi fate sentire il vostro affetto con un clic qua sotto e se non siete ancora iscritti come vi dico sempre qua siete davvero i benvenuti iscrivetevi probabilmente alcuni di voi lo avranno letto in vari siti italiani dove si parla di droni come drone zin quadricottero news degli amici stefano e danilo che approfitto per salutare ma anche su siti internazionali ed è una notizia che gira da un po in rete e credo sia davvero una novità che può cambiare il modo di volare di molti appassionati di droni e che volevo condividere con chi mi segue nel canale e dirvi ovviamente il mio pensiero a tal riguardo a cosa mi sto riferendo semplicemente la possibilità di poter rendere compatibili con il visore google v2 lanciato con il dgi fpv i futuri droni dgi ma anche gli ultimi modelli già usciti della serie mavic esempio e il tutto sarebbe possibile anche con il mini 2 semplicemente perché il visore sfrutta la trasmissione ocu sync 3 che è compatibile con l'ocu sync 2 ovvero quella usata proprio da lui dal nostro mini 2 ma anche dall air 2 dal produe ovviamente tutti i droni che si potrebbero guidare con loro con i googles v2 molti adesso si chiederanno perché al mini 1 ebbè purtroppo per il mavic mini non ci sono speranze di poterlo usare con questo occhiale esatto proprio per quello che vi ho appena detto ovvero che non hanno un tipo di connessione compatibile e in parole semplici non avendo questa tecnologia di trasmissione chiamata ocu sync che ha il mini 2 non potranno mai essere purtroppo compatibili e la speranza di vedere presto questa novità sui droni dgi che è onestamente più di una speranza la si evince per esempio che tra le facche ufficiali del sito dgi inerente dgi fpv si legge nelle informazioni inerenti la compatibilità del visore con altri droni e radiomando che potremo controllare gli ultimi aggiornamenti firmware per capire se ci sono nuove informazioni sulla compatibilità del veivolo o dei veivoli con con il visore e con il radiocomando la compatibilità di cosa se non di altri modelli è certo che il dgi fpv è compatibile dunque si pensa una compatibilità con alcuni modelli già in commercio della dgi e poi diciamo che la cosa che ci ha fatto prendere molta sostanza e credere in questa nuova e futura situazione è accaduta dopo e ferdinand wolf il direttore creativo dgi per l'europa in una video intervista pubblicata su youtube nel canale sine d nei giorni di uscita del drone che alla fine di questo video quando l'intervestatore gli diceva che volare con questo visore era uno spettacolo e sarebbe stato fantastico usarlo magari con altri droni della dgi lui non si è affatto nascosto ed ha affermato che molto probabilmente la cosa avverrà e si ha detto proprio così ma poi ha continuato dicendo che non poteva dire altre cose dire troppo e che comunque stanno ostantemente lavorando per rendere e ve lo ripeto rendere tutti i dispositivi compatibili tra loro anche se e poi iude con una frase un po dubbia ovvero dice che sicuramente il drone di gafpv non sarà l'ultimo prodotto con cui potremo usare i google v2 e questo significa che ce ne saranno altri ma non evidenzia che i già esistenti potranno essere dei simpatibili anche se tutto va a presagire di sì e dunque probabilmente prossimamente ci sarà qualcosa di nuovo e se ci pensate bene sarà anche un affare commerciale da non poco per dgi che potrebbe vendere ovviamente tanti singoli visori a tantissimi possessori di droni dgi che già volano insomma chi ha avuto la fortuna di provare questo visore e ha assaporato la sua risoluzione digitale delle immagini che arrivano live dal drone ovvero da lui in volo sa assolutamente di cosa sto parlando è davvero credetemi pazzesco e pensare di far volare il mio piccolo mini 2 indossandoli e volando in prima persona mi fa emozionare davvero tanto perché mi rendo conto quante persone che anche mi state ascoltando goderebbero come matti per tutto ciò perché è davvero pazzesco chiudo con una considerazione ovvia un mini 2 costa 500 euro questi ne costano altrettanti e dunque non è poco assolutamente ma con loro poi potete indossarli sicuramente anche con altri droni dgi che magari potrete acquistare in futuro questi vi rimarranno o magari se volete volare in fpv con droni autostruiti usando il digitale lo potete fare dunque tanti campi d'azione mi faceva piacere raccontarvi questa cosa un abbraccio ci vediamo alla prossima ciao dalla Toscana e da Bigherette Grazie a tutti